buonasera a tutti volta a spagna 2024 ventunesima e ultima tappa cronometro di 25 km poco meno con partenza e arrivo nella capitale madrid è stata quindi questa scelta degli organizzatori si è partiti e si è arrivati con una cronometro completamente pianeggiante c'è stata quella in portogallo il primo giorno e nel mezzo tanta tanta salita e poche tappe banali ecco da questo punto di vista per spettacolo è stato positivo io credo dov'è fatto 15 video su questa volta e su ventuno tappe sono parecchi quindi vuol dire che in 15 tappe c'è stata comunque battaglia tra gli uomini di classifica in passato succedeva che che questo accadeva anche solo in 5 6 tappe va parato degli anni 90 soprattutto al tour de france invece da questo punto di vista insomma scelta azzeccata a mio parere degli organizzatori andiamo a vedere la classifica generale come si presentava alla vigilia dopo l'arrivo a picon blanco con rovic lanciatissimo verso il suo quarto successo alla volta con 2 0 2 secondo 2 11 su massa 3 minuti su carapaz 4 48 su godù 5 18 su schermose 6 e 26 su lipovitz 6 e 57 su landa 8 50 su siva con 10 31 su carlos rodillas questo per quanto riguarda le prime dieci posizioni diciamo posizioni quasi tutte consolidate l'incertezza per il secondo posto per vedere se massa sarebbe riuscito a recuperare gli ultimi 9 secondi che lo separavano da conno dopo che man mano aveva recuperato i sei minuti che conno aveva preso con la fuga nella tappa di junchera e poi la lotta anche per il quinto posto con schermose favorito su godù nonostante che il francese avesse ancora 30 secondi di margine rispetto al danese mentre invece nonostante i soli 31 secondi di gap era chiaro che lipovitz e che pure uno scatone ma certamente più dotato a cronometro rispetto a landa era molto probabile che lipovitz avrebbe conservato la sua settima posizione e poi c'è anche naturalmente la lotta per la vittoria di tappa tanti specialisti non ci sono van harte si è ritirato per la caduta nella tappa di lagos di covadonga e venepul non è presente in questa volta ganna neppure tra l'altro un ganna che ha problemi fisici salterà l'europeo che si disputerà prossimamente vedremo se riuscirà a recuperare il mondiale a cronometro zurico e quindi ci sono sono rimasti in gara alcuni specialistiche che intenzionati a dare battaglia per la conquista di questa ultima frazione e infatti a imporsi non è stato un uomo di classifica ma proprio uno specialista andiamo subito a vedere di chi si tratta si tratta di stefan kung lo svizzero che tra l'altro abbiamo visto protagonista in questa volta abbiamo visto disputare le volate piazzarsi appunto degli sprint mandare ad attacco anche in tappe di montagna facendo una discreta figura un kung che è volato a 55,7 chilometri orari di media diciamo che la parte più veloce era la parte più veloce per cos'era quella iniziale quella finale leggermente più vallonata quella centrale in cui la media è scesa leggermente però ripetiamo un percorso nel complesso per specialisti probabilmente il meteo inciso in modo tale che i primi a partire sono stati leggermente favoriti nella parte finale del percorso gli ultimi a partire c'è il nome di classifica sono stati leggermente favoriti invece nella parte iniziale chiaramente si correva in circuito però le condizioni meteo sono state nel complesso regolari quindi la classifica di giornata è stata veritiera delle forze in campo kung che ha vinto in maniera molto netta perché inflitto oltre 30 secondi a primos rogic c'è un rogic che ha quindi dimostrato ancora una volta di essere il più forte degli uomini di classifica come di consueto nel cronometro mentre kung ha dominato dall'inizio alla fine ma ha fatto la maggiore differenza proprio nel settore centrale rogic come di consueto non è partito fortissimo nel senso che al primo intertempo aveva già il secondo tempo ma non con margine enorme e poi ha cresciuto la distanza comunque ha tenuto bene nei confronti di kung chiudendo appunto al secondo posto con 30 secondi mentre chi è stato autore di un gran finale dopo che era settimo anzi entrambi gli italiani hanno terminato a prova molto forte dopo che erano settimo l'ottavo al primo intertempo sono stati mattia cattaneo e tutto sommato non è una sorpresa abbiamo visto in grande condizione nelle ultime giornate al di là della famosa polemica nella tappa in cui ha atteso un lanta a 10 chilometri d'alta quadro quando non serviva un mappio niente e poi la sorpresa di giornata è stato filippo baroncini della ue che aveva già si è già comportato abbastanza bene la crono inaugurale e l'ho provisto anche andare l'attacco in alcune occasioni in questi giorni neanche lui lanciarsi negli sprint però addirittura ha chiuso quarto al termine di un testa a testa proprio con cattaneo diciamo i cattaneo i baroncini sono stati gli unici due insieme anche allo stesso shimmy che comunque che ha chiuso quinto a tenere il passo di kung nella parte finale del percorso e poi quinto lo svizzero shmid il campione svizzero in linea che anche lui è stato protagonista ha ottenuto diversi piazzamenti anche in tappe di montagna giude è staccato di 46 secondi mentre cattaneo ne ha persi 42 da kung baroncini 43 poi un altro specialista che si è messo in evidenza in questa volta vacek a 52 secondi campenazze fosse stato campenazze invece il migliore nella parte finale ne ha detto addirittura recuperato un secondo due su kung però aveva solo diciottesimo nel primo settore come così come anche al tour de france nella prima crono aveva recuperato molto nel finale anche in questa occasione ha fatto così chiudendo settimo a 54 secondi secondo degli uomini di classifica dopo l'oggi c'è stato schermose la sua missione la di recuperare 30 secondi a 2 c'è riuscito anche anche per due la prova tutto sommato in crescendo nonostante che il vento appunto incontrato dagli ultimi è stato leggermente peggioro nel finale però abbiamo visto anche nelle tappe in linea schermose adottare questo modo di corre all'almeida e anche a cronometro è venuto fuori la distanza dopo che non è partito fortissimo chiudendo ottavo 1 0 2 poi suini della education first una sorpresa di giornata nono 1 0 3 al mio il campione nazionale specialità anche lui 1 0 3 e poi o'connor undicesimo che quindi ha avuto nettamente la meglio sul mass abbiamo visto in occasione della rappresentazione del video di ieri come i due si erano più o meno equiparsi in cronometro precedenti invece questa volta ha spuntata nettamente l'australiano nei confronti lo spagnolo l'ocondro è partito fortissimo e addirittura terzo il primo intertempo quasi con lo stesso tempo di rogish poi un po come è avvenuto in diverse tappe di montagna è calato nel finale però anche mass a sua volta dopo un buon abbia si è spento stata facendo e o'connor ha comunque mantenuto un detto vantaggio nei confronti dello spagnolo si è piazzato undicesimo 1 0 5 o'connor che tutto sommato era anche più specialista di massa pesa qualche chilo in più rispetto al capitano della mobista e quindi ci sta che riuscisse a conservare il secondo posto nella generale poi affini 12 106 e magari si aspettava qualcosa di più da lui però evidentemente le tante montagne di questi giorni che hanno un po tagliato le gambe tredicesimo un altro italiano che è stato protagonista in questa quetta arrivato secondo proprio nella tappa di un che ha costruito la sua il suo posto sul podio il suo secondo posto finale in quell'occasione proprio marco frio chiuso le condo con distacco di 1 0 7 tra l'altro anche ieri è andato all'attacco verso beacon blanco non dimentichiamolo poi lipoviz quattordicesimo a 1 10 quindi uno scadone che però si difende egregiamente anche nelle prove contro il tempo del toro così come è avvenuto nella nella crono portoghese è partito forte aveva il quinto tempo nel più settore poi è calato nettamente a distanza un minuto e 12 giovane questo messicano molto promettente ricordiamo che ha avuto anche il covid in questa volta anche se l'ha proseguita covid che ha costretto a ritirlo il capitano della guai almeida è un del toro che avrà modo certamente di crescere nei prossimi anni poi che è una letta 1 15 francese tra prime a partire carlos rodriguez una con un cronometro tutto sommato discreta però è sprofondato ricordiamo verso beacon blanco accusando cinque minuti di stacco degli uomini di classifica uscendo quelli da lotta per il polio e diciassettesimo posto per lui a 1 19 poi teata quindi dopo aver deluso il salito riesce a fare una prova contro il tempo discreta chiudendo un distacco di un minuto e venti e male per le sue caratteristiche oliveira diciannovesimo a 1 23 così come ascon non è più quello di qualche anno fa anche se abbiamo visto spesso dall attacco questa volta e tirare anche in pianura a lungo nasa che chiude il ventesimo a un minuto e ventiquattro poi adria buon finale di volta per questo spagnolo gregario di roghi ci ventunesimo 1 32 carapaz ventiduesimo a 1 e 33 con una prova senza effamia senza lode e capace che alla fine per pochi centesimi ha avuto la meglio proprio su mass è un mass che anche lui è provato a partire forti la dodicesimo prima del tempo ma comunque già staccato di 11 secondi da conno e il distacco dall'australiano ha continuato in realtà ad aumentare alla fine non è qui che mass comunque ha perso il secondo posto ma semmai probabilmente proprio nella tappa di p con blanco in cui aveva staccato con quando mancava ancora qualche chilometro dall'arrivo ma non ha proseguito nell'azione consentendo all'australiano di rientrare poi guadagnare ha guadagnato pochi secondi sul traguardo sipa copre venticinquesimo anche per lui prova senza effamia senza lode ha mantenuto una posizione nella generale il suo distacco da da kung di giornata è stato di un minuto e 45 poi troviamo troviamo i due scalatori della camp farm che hanno portato a casa tre tappe in due sono ben comportati anche a cronometro chiudendo ventisettesimo e ventottesimo staccati di 2 di 154 da vincitore kung e di damba l'ultimo il fresco vincitore di beacon blanco poco dietro tantesimo 156 appena davanti al suo compagno zana però sappiamo che il team jaco al di là di questa prestazione normale che sia di damba che di zana il team jaco è una squadra che lavora molto bene per quanto riguarda le prove contro il tempo abbiamo citato la bella prova di shibid adami ace trentacinquesimo con un distacco di 2 minuti 0 5 una dammi ace che ha avuto quell'ex plua nella tappa vinta a granata poi per il resto è stato sempre al di sotto dei suoi standard di salita però ha disputato un tour de fasi di alto livello e ha avuto dei problemi durante la stagione fase di preparazione quindi ci sta che si è arrivato in questa volta non al top e jvine che di solito a cronometro va forte ma evidentemente dopo aver vinto amalia puano si è dannato troppo l'anima chiude a 2 0 9 da kung e trentanovesimo davanti a lui gesink che si è impegnato e trentasettesimo 208 un gesink che è esploso da alti livelli proprio alla volta nel 2009 un gesink che mette fine alla sua carriera con questa prova una carriera che all'inizio sembrava vederlo un possibile grande protagonista nei grandi giri e poi invece si è convertito al ruolo di gregario ricordiamo quarto gesink al tour de france del 2010 un gruppo in alto il quarantesimo a 2 12 che conclude una volta nell'anonimato più totale abbiamo detto più volte che è arrivato in condizioni precarie però fa specie che non l'abbiamo visto praticamente mai neppure andare all'attacco e poi vlasov che ha preso il via dopo l'intossicazione elementare che ha colpito lui e diversi suoi compagni nella tappa di pigon blanco chiude il 42 esimo a 2 14 godù che inevitabilmente ha perso la posizione da schermose un godù che non è assolutamente un cronoman specie in questo tipo di prove contro il tempo e lo conferma anche stavolta solamente il 44 esimo a 2 minuti e 15 da kung poi proseguiamo l'anda stesso discorso di godù anche se insomma qualcosa di meglio in passato l'ha fatto vedere nelle prove contro il tempo comunque mantiene la posizione nei confronti edisiva chiude chiudendo 49esimo a 2 minuti e 12 2 minuti e 22 scusate dal vincitore kung e scoriamo ancora a grassivi a calcare in grosso comunque si è impegnato almeno in parte 55esimo a 2 36 ovviamente ha vinto la classifica a punti dopo l'abbandono di van harte e direi che potremmo già fermarci qui perché gli uomini di classifica bene o male li abbiamo citati tutti e scoriamo molto velocemente sepp kuss chiude una volta da dimenticare con una cronometro anch'essa dimenticare tanto che addirittura viene scavalcato da christian rodriguez in classifica generale percursa il 78esimo posto a 3 minuti e 0 7 da kung anno scorso ricordiamo anche a cronometro da competitivo qua nella vuelta che ha vinto un po' sorpresa ma comunque andando forte in salita e al di là del fatto della situazione tattica che l'ho visto guadagnare i minuti su bingard su rovici e sugli avversari delle altre squadre ricordiamo la famosa tripletta tra visma riserbarco un anno fa proseguiamo ancora naio quintana un altro che è stato del tutto anonimo in questa volta magari lo discuteriano questi però non l'abbiamo visto mai andare all'attacco magari per provare a vincere una tappa il 93esimo a 3 minuti e 24 discorso analogo anche per il compagno con nazionale rubio che chiude il 97esimo a 3 minuti e 25 lorenzo fortunato non è assolutamente un conno ma non aveva nulla da chiedere a questa prova 104esimo a 3 minuti e 46 e poi via tutti gli altri mcnalti che probabilmente è caduto dopo il primo intertempo è vero che non non sta brillando particolarmente lui che è già caduto pesantemente nella tappa di puerto d'ancares comunque l'undicesimo il primo intertempo poi ha passeggiato però evidentemente proprio per la via di una caduta chiudendo cento tredicesimo a 3 minuti e 52 lui che ricordiamo che ha vinto la crono inaugurale in portogallo proseguiamo ancora con la classifica giusto per citare la fe che chiude all'ultimo posto cento trentacinquesimo gregario di o'connor lui che non è chiaramente non è al top di la condizione in questa volta abbiamo visto vincere una tappa al tour de fast un anno fa combattendo contro pocaccia del vingard e la fe che chiude cento trentacinquesimo e ultimo a 5 minuti e 20 da kung e andiamo nuovamente a ricapitolare velocemente la classifica di giornata quindi con la vittoria parziale appunto di kung 30 secondi su logis 41 su cattaneo 43 su baroncini quanti 6 mid 52 su budget 54 su campeonats 101 su schermose 102 su suini 1 0 3 su amirail poi o'connor 105 così come affini frigo 1 0 7 l'ipovic 1 10 per tor 1 12 e adesso andiamo a citare solo gli uomini classifica rodriguez carlos a 118 e poi carapazza 1 32 massa 1 33 si va come 1 44 e poi damba 1 55 Cristiano Rodriguez non abbiamo citato anche lui 1 55 capitano dell'archea e protona discreta prova lui è uno scatole puro dammiez ea 2 0 4 poi troviamo godu a 2 minuti e 14 landa a 2 minuti e 22 scendiamo ancora cd giusto per citare il campione uscente cus 78 a 3 minuti e 0 7 e questa è la nuova classifica finale la classifica finale appunto di questa volta con l'odice che comporta a casa la sua quarta maglia rossa dopo quella del 2019 2020 2021 o'connor che chiude a due minuti e 36 ovviamente o'connor non è stato la seconda forza in campo ma ha beneficiato di quella fuga di un che era in cui però va detto che andava molto forte nel finale perché ad esempio c'era anche l'ipovic in fuga con lui e l'ipovic rivolto al quadro staccato di 5 minuti non dimentichiamolo 1 connor che avrebbe potuto con ogni probabilità non battere roglic anche con quel vantaggio accumulato diciamo che avrebbe battuto con più facili avrebbe mantenuto con più facilità il secondo posto se in molte tappe di montagna non si fosse intestardito a seguire gli scatti dei rivali per poi pagare pesantemente tassi nel finale lui ha dichiarato in intervista che è stata la maglia rossa il fatto di avere la maglia rossa che l'ha portato ad avere questa condotta di gara infatti una volta persa la leadership nella tappa ip con blanco invece ha adottato una tattica più prudente salendo il proprio passo e riuscendo a limitare i danni su quel traguardo enrique massa testo 3 minuti e 13 è un mass che è andato molto forte nelle pie due settimane poi ha avuto quella crisi a puerto drancares dopo dove tentò di seguire roglic per poi appunto perdere un minuto in pochi chilometri e nell'ultima settimana non è stato così brillante così come nelle prime due una delle azioni più belle di questa volta è stata la sua nella tappa di granata dove riuscì a staccare di un minuto roglic e gli altri uomini classifica sul lato della zayana salvo poi essere aggiunto in discesa e mas che dal punto di vista arretico è stato il numero due dopo roglic e indubitabilmente però non ha conquistato il secondo posto cosa che gli era avvenuta in altre occasioni una volta ma solo il terzo appunto per via della fuga di o'conno carapazzo e quarto a 4 minuti 0 2 un carapazzo volente rosa in questa volta ma non brillantissimo non c'è dubbio che sia andato più piano di mass ha costruito questo suo piazzamento piedi del podio con quell'azione a lunga gittata anche lì nella tappa di granada però per il resto non ha fatto la differenza in salita come riusciva a fare in passato e quindi deve accontentarsi di questo piazzamento piedi del podio quinto schilmosi a 5 49 lui ha avuto una giornata negativa proprio a granada forse anche per via delle sue caratteristiche non sembra essere un corridore particolarmente dotato di fondo poi ripeto con questa condotta all'almedia di salire con il proprio passo alle tappe di montagna riuscito spesso a limitare i danni ed arrivare davanti a diversi avversari diretti e a risalire fino al quinto posto della classifica generale dopo che non è stato brillantissimo in generale nei primi giorni oltre che a granada 5 49 il distacco del giovane danese 6 e 32 quello di un ritrovato godù dopo la debacle tour de france un godù che ha delare criminale però per la tappa di granada perché lui nel fuga insieme ad ad ammietti non è riuscito a rimanere però in quell'occasione con il britannico ed è stato anche raggiunto e superato da carapazza in quell'occasione godù soffri molto il caldo il caldo estremo che c'era in andalusia certo se godù fosse riuscito a rimanere con ad ammietti quel giorno sarebbe salito sul podio in sostanza con ogni probabilità e quindi occasione persa da questo punto di vista per il francese della gruppa maldia delle sue lacune a nome da cui sono manifestate anche in questa prova di madrid settimo a 7 0 5 l'ipovic e con lui magari può recriminare per non aver tenuto il passo di o'connor nella tappa di un che era poi a per il resto ha avuto delle giornate ottimi alcune più difficili al tuo primo vero grande giro luca si è ritirato dopo poche tappe al giro d'italia per problemi fisici dopo essersi ben comportato d'europa chiude comunque settimo a 7 minuti 0 5 e in una uretta in cui ha fatto la propria corsa al di là del fatto che era compagno di squadra di roglice poi ottavo a 8 minuti e 48 landa è un landa che ha pagato i oltre tre minuti persi nella tappa famosa dei paesi baschi quando era stato atteso da cattano nel finale altrimenti senza quattro minuti sarebbe arrivato quinto quindi in sostanza pareggiando il piazzamento ottenuto il tour de france però va detto che all'area grande bucle il basco andrà un po più forte rispetto che qui alla vuelta al di là del anche se anche se non ci fosse stata quella debacle in quella giornata comunque ottiene un'altra top ten 8 48 però sicuramente l'obiettivo era fare qualcosa di più e nono si va cova 10 0 4 non si pensava che sarebbe stato lui il migliore della ue però con adami esse ritirato o meglio con al media ritirato adami esse non brillantissimo il russo naturalizzato naturalizzato francese si è ben distinto ha approvato anche qualche bella azione da lontano come nella tappa di cui tu nego in cui è arrivato poi terzo appunto anche andando l'attacco nella penultima salita nella tappa di pico in blanco e alla fine comunque un buon non opposto con un distacco di 10 minuti e 0 4 decimo carlos riggs a 11 e 19 anche lui nel complesso al pari di landa andrà più forte al tour de france lui a lui sul gruppone i cinque minuti abbondanti persi a pico in blanco togliamo cinque minuti lo troviamo tra schermoso e godun classifica generale quindi anche per lui il piaccamento sarebbe stato simile a quello del tour de france però nel complesso non è mai stato brillantissimo soprattutto non l'abbiamo mai visto andare l'attacco e ha avuto qualche giornata difficile ad esempio a cui tu nego ma anche nella prima settimana e qualche giornata invece più positiva salvo poi però avere questo collo cramoroso verticale nella tappa di pico in blanco un dicesimo d'ambar che non ha iniziato benissimo la volta però poi è cresciuto tantissimo nell'ultima settimana e si è portato a casa due tappe 14 e 40 all'istacco dell'irlandese che tra l'altro avrà avuto grossi problemi fisici in questa stagione tanto che addirittura aveva meditato di ritirarsi dall'attività agonistica invece è arrivata questa resurrezione per lui solamente dodicesimo dai mezzo a 15 e 40 però con la perla della bella impresa nella tappa regina di granata con un'azione partita da lontanissimo e ben supportato dai compagni squadra che certamente non si sono risparmiati ah beh ricordiamo ha dominato la similia squadra e poi ci arriveremo poi christian rodriguez dell'archeia tredicesimo stesso piazzamento di un anno fa con distacco 19 e 48 sepkus molto deludente a 20 e 25 in alcune tappe di salita si è comunque salvato in altre affondato soprattutto in quella di picco in blanco ma anche in precedenza in quella di granata non è mai stato comunque a livelli della passata stagione poi dion martin a 31 34 solito piazzamento senza inframi e senza lordi così come un discorso analogo va fatto per lorenzo fortunato sedicesimo 40 e 43 un fortunato che al giro aveva dato l'impressione più di due settimane di aver fatto un passo avanti rispetto alla passata stagione questa volta al di là di aver provato comunque a fare classifica non ha brillato particolarmente il distacco da rovic è molto pesante 40 minuti e 43 poi adesso andiamo a scorrere più velocemente vlasov diciottesimo un vaso che non è mai stato brillantissimo al di là dell'intossicazione alimentare però è stato determinante nella tappa del moncarviglio nel lanciare l'attacco di rovic che ha messo lì la parola fine praticamente a questa edizione della corsa tappe iberga in suo favore continuiamo jk che è iniziato abbastanza bene poi si è spento facendo chiudendo ventiduesimo a un'ora e undici ricordiamo che a barenna aveva un tiberi con grandi ambizioni che si stava ben comportando però poi un colpo di calore nella tappa di canada da costretto ritiro e poi andiamo ancora avanti velocemente rubio 27esimo quasi mai brillantissimo in salita non certo di livelli del giro d'italia ventisettesimo un'ora e trentanove mentis 28esimo anche lui un'ora 39 e 37 del tutto anonimo gallo il ventinovesimo un'ora e 42 minuti un gallo che è stato molto importante nella tappa di pigon blanco in supporto da connor un gallo che è stato protagonista per due settimane poi ha avuto un crollo verticale salvo ritrovarsi proprio in occasione dell'ultima frazione in montagna chintana come ha detto nel complesso dell'udente un'ora e 49 il suo distacco trentunesimo max pool uno dei più attivi non come soler ma uno di quelli subito dietro spesso all'attacco tanti piazzamenti vediamo se in futuro riuscirà a diventare anche uomo di classifica lui che certamente ha delle qualità in salita e un'ora e 56 il suo distacco dal vincitore robic ma ormai a questo punto della classifica contano poco gli stacchi solo è comunque grandissimo protagonista e ha vinto ha vinto tappi la costa con la donna ottenuto tre terzi posti ha dato l'attacco praticamente in tutte le tappe di montagna quasi chiudendo quarentunesimo ricordiamo che solo è un anno fa aveva anche provato a fare classifica poi per poi rollare nella tappa dell'anglio e andiamo ancora avanti velocemente narbaris nel complesso non ha brillato anche se in qualche occasione ha mostrato un buono spunto in volata con lo stesso che aveva consentito al giro d'italia di battere pro caccia nella frazione di torino chiude cinquantesimo frigo comunque buon protagonista spesso all'attacco un secondo posto ma non solo per lui mcnalti 54esimo con una volta positiva per lui non forse altro perché ha vinto una tappa quella di apertura a in portogallo la cronometro così come è stata certamente una volta positiva per il suo compagno vine che ha portato a casa la maglia qua che gli ha sfuggito nel 2022 per una caduta e grande rivelazioni i due scalatori da che fa ma li abbiamo citati berlada e castriglio al di là del fatto che non hanno fatto classifica andiamo velocemente temus invece è stata una delusione del tutto anonimo 3 ore 12 il suo distacco comunque la lì si è rapportato a casa una vittoria di tappa con woods che poi si è ritirato qualche giorno dal termine della volta continuiamo dei clienti un altro che al pari di casing metterà fine presumibilmente alla carriera a fine stagione una volta abbastanza anonimo 88esimo quasi quattro ore di distacco gross è stato il dominatore delle volate ancora più di man art e meno le volate in pianura è stato lui il corredore più forte chiudendo poi chiudendo con la maglia verde e il centesimo posto per quello che vale a 45 minuti dal vincitore rovic e continuiamo molto velocemente a scorrere la classifica ultimo l'olandese nabermann tanti olandesi nelle estreme le trovie e nabermann tanti cento trentacinquesimo c'erano stati diversi di questa volta più rispetto al solito e cento trentacinquesimo 5 ore ventuno minuti e tre secondi di distacco da rovic e bene adesso diamo la classifica punti e vede gross davanti a tutti e rovic con grazie all'agonometro con solito il secondo posto con 140 punti con 226 dell'australiano e 118 di pool poi troviamo vine come detto miglior scalatore con 78 punti contro di 76 di soleri e 43 di castriglio il miglior giovane alla fine è stato schermose con 1 16 sul lipoviz 5 minuti e 30 su rodriguez diciamo che schermose è stato il più costante dei tre mentre per quanto riguarda la graduatoria squadra e la way che andata spessissimo all'attacco ha dominato con 32 minuti e 53 sulla red bull e un'ora e 23 circa sulla decadon che poi sono le formazioni del primo e del secondo in classifica generale rovic e o conno abbiamo quindi concluso con il racconto di questa volta del 2024 ripetiamo vi daremo appuntamento tra un po' quando verrà presentato il giro d'italia 2025 e faremo un video dedicato al percorso del giro d'italia stesso e vediamo quindi appuntamento ad allora e per il momento arrivederci a tutti